Materie prime sempre più care e soprattutto sempre più scarse e difficili da reperire sul mercato. È la doppia preoccupazione che assilla i numerosi imprenditori pratesi, protagonisti della chermesse fiorentina di Pitti Filati. L'edizione numero 83 alla fortezza da basso di Firenze si apre sia all'insegna di un moderato ottimismo. Il primo trimestre del 2018 segna infatti per la filatura italiana un più 5,5% dell'export a fronte di un meno 0,5% dell'import. Ma il futuro del settore è ancora in chiaroscuro e molto dipenderà dalle dinamiche internazionali. Che tipi di aumenti sono stati e come hanno inciso sul vostro listino prezzi? Aumenti sono vari, ma insomma i maggiori sono stati anche del 30% rispetto a un anno fa. E sul listino pur cercando di contenere, ma possiamo poco con le materie prime, 8-10% in qualche caso abbiamo raggiunto gli aumenti. Come guardate quindi al futuro, allo stato attuale diciamo? Soprattutto incrociamo le dita, guardiamo con fiducia perché la maglieria sta andando, qualche problema ci sarà senz'altro. C'è un cambiamento nato per quanto riguarda anche il sistema di vendita, ci sono molte collezioni, molti frazionamenti e quindi c'è un problema proprio di efficientamento del sistema e deve rivedere anche le proprie politiche industriali, migliorando appunto la capacità di dare servizio però non pesare sui costi in modo da leggere eccessivamente margini. E il distretto in questo come può giocare la sua partita? Il distretto ha la caratteristica di essere flessibile da sempre e questa è una cosa positiva, ma la flessibilità non può essere fatta a spese delle lavorazioni. Tra i 129 marchi, di cui 27 esteri, spiccano al solito le produzioni del distretto pratese che nonostante le difficoltà sanno distinguersi per originalità e innovazione. Il movimento c'è e si vede, buyers dal nord Europa, dagli Stati Uniti e dall'Oriente fanno pensare positivo, ma tra i quesiti futuri spicca anche il grande rebus legato ai dazzi. Per ora nessun allarme, ma molta allerta. Che sta colpendo altri settori, il nostro settore tessile per il momento ne è rimasto fuori, ma non so per quanto, ecco ancora. Come guardate quindi ai prossimi mesi? Come da buoni pratesi, diciamo, si confiduce.